Marina perché hai deciso di fare il servizio civile? Perché ho pensato che sarebbe potuto essere un trampolino di lancio nel mondo del lavoro dato che non avevo alcuna esperienza. Ho deciso di intraprendere questo percorso quando cercando un lavoro part time da alternare l'università ho trovato il bando su internet e mi sono detto perché no? Io ho deciso di svolgere un anno di servizio civile in un parco perché volevo vedere dall'interno come funziona un'area protetta, come si lavora per tutelare il territorio e volevo impegnarmi io in prima persona portando sia quelle che sono le mie competenze ma proprio la mia persona quindi con la mia energia e la mia creatività. Per poter intraprendere un percorso formativo e lavorativo durante il quale mettere in campo le mie competenze non soltanto per ricevere ma anche per dare esplendermi per la comunità in un ambito che mi appassiona. Grazie a tutti.